Con il direttore sportivo Vito Manna, ma non solo, il responsabile del settore giovanile del Real Forio. Allora, due figure che vi dico importantissime per questa società. Direttore, parto un attimo prima da lei perché per la prima volta sta vedendo il suo lavoro, e anche quello di Luigi Pisani, messo in concreto il grande lavoro fatto per questa squadra sulle basi fatte l'anno scorso e sugli innesti di quest'anno che si fonda il Real Forio per la Stagio 2024-2025. Sì, vorrei partire prima dalla cosa che hai detto all'inizio. Qui c'è anche il presidente Luigi Esposito, eravamo insieme dieci anni fa quando è nato il Real Forio 2014 e si ritroviamo qua e questo è sempre un piacere. Io ma anche lui siamo sempre sul campo, abbiamo questa passione che condividiamo. Oggi siamo qui insieme a tanti altri amici, al presidente, a questa società, ai ragazzi. Qui è un momento di felicità perché comunque si inizia quest'anno. Dobbiamo lavorare molto e parlare poco. Secondo noi abbiamo fatto un buon lavoro, ma vedremo partita per partita quello che ci darà il campo. Siamo partiti, penso, col piede giusto a livello organizzativo, con uno staff di livello, con una società importante. Vediamo, vediamo. I ragazzi sono carichi, sono tutti decisi, ragazzi seri, professionisti, dei giovani interessanti. Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ecco, tutti i presupposti per far bene in una stagione sportiva importante, come avevo sottolineato. Dieci anni nella fondazione del Real Forio. Un motivo in più anche per fare qualcosa di importante quest'anno? Sarebbe bello toglierci qualche soddisfazione nel decennale. E' chiaro che sarà un campionato molto impegnativo, ci sono tante squadre che si sono attrezzate. Forse non come l'anno scorso dove c'erano due che avevano qualcosa in più, ma quest'anno ci sono 4, 5, 6 squadre che comunque hanno allestito delle rose importanti. Noi col lavoro che abbiamo iniziato dal 2022, quando il Presidente Amato ha deciso di alzare un po' l'asticella, penso che dopo il campionato dell'anno scorso, con una buona base, siamo andati a fare degli innesti per cercare di migliorarci ancora. Quindi vediamo il campo cosa dirà, però penso che possiamo toglierci qualche soddisfazione. Poi nel decennale sarebbe ancora più bello. Sarebbe veramente bello. Luigi Esposito, mi sposto a lei, perché il settore giovanile del Real Forio è un progetto, quello del progetto Cantera, che sta dando tantissimi frutti e che sta facendo veramente far uscire agli occhi di tutti quanti dei giocatori veramente molto importanti. Alcuni li vediamo qua davanti, però prima di parlare di questo, dieci anni dalla fondazione del Real Forio e li trovate ancora qua, vi trovate ancora qua con la stessa passione forse di quei primi giorni. Che emozione le porta, ecco, all'inizio di una nuova stagione sportiva. Allora, dopo dieci anni è sempre bello stare sul campo e pensare a quello che abbiamo fatto nel passato. Sicuramente è stato faticoso arrivare a dieci anni, speriamo di continuare e di avere qualche soddisfazione in più. Quest'anno spero, con la squadra fatta da direttore, penso di poter toglierci qualche soddisfazione e qualche punto in più per la stagione che viene. Per quanto riguarda i ragazzi, abbiamo bei ragazzi che abbiamo lavorato in passato e sono qui, ce ne sono sei, sette che sono pronti e stanno in prima squadra. Speriamo a chi ha fiducia in questa società, perché c'è qualcuno che non ha fiducia nel settore giovanile, ma nella società abbia fiducia e possiamo continuare a far crescere i nostri ragazzi. Proprio su questo volevo aggiungere che l'Under-19 quest'anno sarà importante, perché il lavoro che vediamo fatto negli anni precedenti lo vediamo oggi. Ci sono ragazzi che sono stati in Under-19 negli anni precedenti e ad oggi partono con noi con la prima squadra. Quindi i 2007 che decideranno di far parte, il 2008 anche, insomma, il nostro settore giovanile, l'Under-19, è un progetto importante di un'eccellenza. Quindi la nostra Under-19 penso che sull'isola, dopo chiaramente l'Ischia che fa una categoria superiore, sia un Under-19 di livello importante. Ecco, di un livello importante che ha visto giocatori come Andrea Di Meglio, come Sant'Aniello in Porta, fare grandissime prestazioni con le rappresentative. Antonio Cassani ha comunque voluto dall'Ischia Calcio in Serie D, comunque dei giocatori valorizzati nel migliore dei modi che hanno poi dopo e hanno permesso il lavoro che fate con questi giocatori di poi far fargli un grandissimo salto di qualità. Sì, diciamo che Antonio è molto fortunato, ha lavorato bene con noi, siamo stati attenti a crescere un po' tutti questi ragazzi. Merito agli allenatori che li hanno avuti, questo sicuramente anche parte loro, che dà merito a loro, però dà merito anche alla società che ha saputo scegliere sempre degli allenatori adatti a far crescere i ragazzi. Un ultimo commento a entrambi, perché quando si parla del settore giovanile del Real Forio ci sta un giocatore che risalta gli occhi di tutti, che ultimamente ha fatto gli europei con l'Italia, non si può non citarlo, Marco Romano, che comunque è un prodotto del Real Forio, comunque a conferma del lavoro che viene fatto e che poi porta i suoi frutti, perché se parliamo di un giocatore convocato in nazionale a fare gli europei, non è un giocatore come tutti. Ma è chiaro che poi ci sono dei calciatori che hanno delle doti innate, quelle non le puoi allenare, però è chiaro che è una soddisfazione per il settore giovanile del Real Forio, per il Forio, vedere Marco arrivare a questi livelli e siamo tutti contenti di questo, ma oltre a Marco, giusto c'è anche Vito Ballirano, che comunque è stato preso dal Benevento, e poi è passato l'anno scorso l'Ischia, quest'anno al Pompei, una squadra che punta a vincere il campionato di Serie D. Tanti ragazzi negli ultimi anni hanno avuto, grazie al Forio, la possibilità di mettersi in mostra e per noi può essere solo un motivo di vanto, è un risultato che si dà la... Sì, questo volevo dire, che va a valorizzare il lavoro che si fa per il settore giovanile.